E adesso proviamo a dare la parola a Luisa Lama. Buongiorno a tutti e a tutte e grazie perché veramente è un piacere per me e un privilegio essere chiamata a partecipare ai lavori del convegno che la Fondazione Gramsci e la Fondazione Iotti e l'Istituto Gramsci hanno voluto e organizzato, nonostante le difficoltà di questo tempo purtroppo non ancora alle nostre spalle. Innanzitutto permettetemi di condividere con voi un pensiero di insieme su questo nostro incontro in relazione soprattutto allo schema narrativo scelto, uno schema che rispetto ai tanti possibili mi sembra privilegi l'indagine e l'approfondimento della personalità di Nid De Iotti nella sua complessa poliedricità. Statista di primo piano e nel contempo donna sempre impegnata nell'affermare i valori, i saperi, le competenze femminili nella società, dal microcosmo della famiglia ai luoghi più alti della politica e delle istituzioni. Il tema del mio intervento riguarda il lavoro di ricerca delle fonti consultate per la sua biografia e proprio per questo forse vi stupirà se come incipit scelgo una fotografia. È un'immagine che mi è cara anche perché dall'intervento immortalato in quello scatto, sia pure allora inconsapevolmente, è maturata in me l'idea e più tardi il progetto di misurarmi con un lavoro dedicato a lei. Allora, siamo a Bologna nel lontano dicembre 1984. L'immagine coglie uno scorcio della sala del Consiglio Comunale. In alto, dietro gli scrani destinati al sindaco e alla giunta, campeggia un grande manifesto con il titolo del convegno che si sta svolgendo. Giuseppe Dozza, sindaco della ricostruzione, ha dieci anni dalla morte. A riflettere su quella figura di amministratore addettata da Togliatti come esempio virtuoso della capacità governante dei comunisti italiani, era stato invitato un parterre di storici e politici di tutto rispetto. Solo per citarne alcuni, ricordo Renato Zangeri, Paolo Spriano, Leo Vagliani. E infine, la voce della politica e delle istituzioni era rappresentata dalla Presidente della Camera Nilde Jotti, alla quale era stato affidato il compito di coordinare e concludere i lavori del convegno. All'evento partecipavano anche storici sconosciuti alle prime armi come me, che proprio a quel convegno presentavo i risultati di una ricerca sui rapporti intercorsi nel dopoguerra fra il Comune di Bologna e l'Università. E permettetemi qui di condividere con voi un pensiero dedicato allo storico professor Roberto Finzi, scomparso da poche settimane, a cui devo molto, sia per quella ricerca in particolare, sia per studi successivi e importanti per la mia formazione storica. Ma torniamo alla fotografia. Al centro della scena, seduta sullo scranno più alto dell'emiciclo, è con il De Jotti, impeccabile come sempre, nel suo abito semplice e severo, uno scamiciato di velluto nero portato con giovanile disinvoltura sopra una luminosa camicetta di raso bianco. Da quella postazione che il sindaco Renzi in beni le ha ceduto per sedersi qualche posto più in là, Nilde sta ascoltando Paolo Speriano, il relatore che interviene al momento dello scatto. L'attenzione della presidente è naturalmente rivolta a lui, ma oltre allo sguardo, ciò che mi colpì allora e che ritrovo ancora in quella fotografia era il suo portamento, scarismatico e solenne insieme. Un portamento che per lei era diventato uno stile, un modo di essere, forse più altero e distaccato di quanto realmente rispecchiasse la sua personalità. Io sono fuori campo, ma non dimentico l'emozione e la soggezione di quei momenti. Era la prima volta che intervenivo in pubblico e per giunta di fronte a un pubblico così autorevole. Eppure è proprio in quell'occasione che ho cominciato a pensare che cosa, quell'omone dal sorriso aperto e contagioso che campeggiava le mie spalle e quella signora carismatica e solenne che mi stava ascoltando, avessero a che fare con me e più in generale con le donne e gli uomini della mia generazione. Quella cioè di una ragazza nata nella prima metà degli anni 40 che non aveva memoria né del fascismo né della guerra e che appena ricordava le difficoltà ma anche il fervore della ricostruzione. Certo, c'era l'appartenenza allo stesso partito, il PC, ma c'era anche qualcos'altro che aveva a che fare con le loro date di nascita e con i rispettivi profili biografici. Perché? Compresa la mia in quel giorno, in quella sala, due generazioni di storici e politici, per la maggior parte comunisti, erano chiamati a riflettere sull'esperienza di uno dei loro padri, l'esperienza cioè di Giuseppe Dozza, nato nel 1901, fra i fondatori del PC, poi antifascista, clandestino per buona parte della sua vita giovanile e matura, quindi uno dei capi della Resistenza e, per decisione del Comitato di Liberazione Nazionale, nominato sindaco di Bologna. Mestiere, quello del sindaco, imparato in fretta ed esercitato per più di vent'anni con il largo consenso dei suoi concittadini, un consenso ben più ampio del bacino elettorale del suo partito, tanto da lambire fette consistenti di quel ceto medio da sempre considerato una componente essenziale della via italiana al socialismo. Poi è con il Deiotti, che rappresentava la generazione successiva a quella di Dozza. Nilde, infatti, era nata nel 1920, un anno prima della fondazione del PC. Era cresciuto in una famiglia antifascista, poi bambina, adolescente e giovane donna, si era formata nelle scuole fasciste, la cui educazione autoritaria era stata in parte mitigata dalla frequentazione delle istituzioni giovanili cattoliche. Quindi, dopo l'8 settembre, l'adesione ai gruppi di difesa della donna e nell'immediato dopoguerra l'impegno a fianco delle donne deludi e a 26 anni l'iscrizione al Partito Comunista e l'elezione all'Assemblea Costituente. Ebbene, accanto alla generazione della Presidente della Camera, ora c'era anche la mia, che della guerra portava le ferite, ma non il ricordo. Ero bambina negli anni della ricostruzione e adolescente in quel lampo di tempo che fu il boom economico, una stagione che sul piano dei diritti civili, della morale e del costume, io definirei come quella della lenta consapevolezza. Consapevolezza proprio dei tanti tabù che imbrigliavano le nostre vite di donne, così come avevano imbrigliato le generazioni precedenti, compresa quella di Nilde. Si contestavano gli assetti di potere e le loro ideologie nel nome di una libertà e un'eguaglianza senza frontiere. Il 68 ha coinvolto molte di noi. Era in campo la rivoluzione o comunque una richiesta forte di modernità. Tutto sembrava a portata di mano. Si rivendicavano nuovi diritti civili, sociali e economici in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, per la maggior parte ancora disattesi. Fu un fuoco di paglia o un fenomeno epocale? Non è certo questa la sede per porci quelle domande, anche perché la storia del decennio successivo, gli anni settanta, fu certamente contrassegnata da inquietanti e dolorosi chiaroscuri. Ma che una certa area fosse cambiata, almeno sul piano dei diritti civili e sul ruolo della donna nella società, lo dimostravano le riforme proprio di quegli anni settanta. Divorzio, aborto, diritto di famiglia, di cui Nilde Jotti fu protagonista. E anche fra le più credibili, proprio per la forza e la coerenza con le quali per quei principi e i diritti si era battuta fin dai banchi dell'Assemblea Costituente. Quindi in quella sala non si stava solo riflettendo sulla figura di un politico e di un amministratore capace e ormai consegnato alla storia come Giuseppe Dozza, ma si mettevano in luce anche gli snodi e le risorse di un passaggio di testimoni fra generazioni. E devo riconoscere che già queste prime riflessioni furono centrali nella mia formazione storica, tanto da aver orientato buona parte della mia ricerca, fino a dedicare a entrambi, prima a Dozza, poi alla Jotti, i miei lavori più maturi. Ovviamente questo tipo di approccio, sia concettuale che metodologico, ha, per così dire, influenzato e orientato anche la mia ricerca delle fonti per la biografia dedicata alla Jotti. Per cui Reggio Emilia, sua città natale, è stato il mio punto di partenza. Ho incontrato tante sue amiche, amici e anche persone che l'avevano solo conosciuta. In quelle testimonianze orali cercavo soprattutto di farlo luce su una fase della sua vita che mi aveva colpito, la sua formazione e in seguito la precocità quasi fulminante della sua prima vita o progressione, come lei, con un termine più letterario che politico, preferiva chiamare la propria carriera. E per questo mi fecero riflettere due testimonianze apparentemente minori rispetto a quelle che si riferivano alla sua vita pubblica, ma che aprirono squarci particolari, intimi, sul suo carattere e sulla sua personalità. Corrado Corghi, cattolico e anime inquieta della DC, suo compagno di scuola alle magistrali, ricordava una gita scolastica in treno a Firenze. In quell'occasione, mi confessò, di essere rimasto colpito dalla cura e dalla dolcezza con cui Nilde stava vicino ai suoi compagni, soprattutto ai più piccoli. Un atteggiamento che lui stesso faceva fatica a riconoscere nel contegno riservato e un po' distante che la giovane Nilde teneva abitualmente nei rapporti interpersonali. Così come mi colpì un passaggio della sua tesi di laurea che mi fu donata in coppia da Ugo Bellocchi, un giornalista reggiano amico di Nilde fin dalle scuole primarie. In quella tesi, dedicata alla reggio settecentesca ed in particolare all'opera riformatrice dei suoi reggitori i duchi d'Este, Nilde, come di soppiatto, inseriva nel racconto un suo pensiero, quasi un'accusa. Infatti, nel ripercorrere quella stagione di riforme, ne sottolineava anche un aspetto negativo e cioè di non aver curato l'educazione del popolo che, cito testualmente, secondo Nilde, secondo la tesi di Nilde, è il primo gradino per compiere un vero miglioramento fra le classi povere. E questo mi fece riflettere anche su quanto avesse influito nella sua formazione l'esempio della famiglia e del padre Egidio che fin da bambina non si staccava di ripeterle loro sanno, alludendo ai borghesi e a chi aveva in mano le leve del potere. Queste prime testimonianze certo minori in parte mi sorpresero ma mi confermarono contemporaneamente che proprio lì a Reggio avrei trovato le tracce per ricostruire i tre anni fondamentali della sua prima vita e in particolare quegli intercorsi dal scusate 30 ottobre 1942 giorno della sua laurea in lettera alla cattolica di Milano al 2 giugno 1946 quando il suo nome compare nelle liste del PC come candidata poi eletta all'Assemblea Costituente il punto di riferimento delle mie ricerche diventò quindi la Panizzi una biblioteca molto organizzata nella quale consultai materiale sia archivistico che di stampa aiutata da un personale di grande professionalità che mi ha consentito di utilizzare e apprezzare tutte le potenzialità di quella splendida struttura quindi la mia ricerca partita dalle prime esperienze lavorative di Nilde come insegnante di letteri in un istituto tecnico reggiano poteva spaziare su temi più politici inseriti naturalmente nello scenario drammatico della guerra vissuta al di là della linea gotica invasa dai nazifascisti per Nilde come per altri giovani della sua generazione la data è il luogo delle scelte definitive fu l'8 settembre 1943 a Cabriago un piccolo paese nella cintura reggiana dove era sfollata con la madre allora Nilde aveva 23 anni e proprio lì avrà inizio il suo impegno politico si avvicina alle donne che avevano aderito alla resistenza e sarà anche lei fra le protagoniste del gruppo di difesa della donna fondato clandestinamente in quel piccolo comune da questo momento la causa degli ultimi e sul piano delle scelte di genere quello delle donne diventeranno il suo risdonte politico e sociale il suo nome comincia a comparire sui fogli clandestini che circolavano a Reggio e provincia poi con la liberazione della città il 24 aprile 1945 il suo impegno sul fronte femminile si fa più articolato e attivo diventa segretaria dell'Udi Reggiano si occupa dell'assistenza sociale nelle strutture pubbliche preposte ad alleviare le sofferenze del dopoguerra questo la porta alla ribalta se ne occupa la stampa locale che la segue con interesse e curiosità anche questo aiuta la sua elezione prima a consigliera comunale come indipendente nelle liste del PC poi il grande balzo il 2 giugno candidata comunista ed eletta all'assemblea costituente molto interessante per ricostruire questo periodo si è rivelata la lettura della pubblicistica cattolica le riviste di quell'area la verità era nuova la prendono di mira soprattutto dopo la sua candidatura alla costituente tutto fa pensare che proprio per il suo passato di fervente cattolica quelle voci della chiesa reggiana temessero la sua candidatura ben più di altre l'accusano di aver tradito gli ideali e i valori della giovinezza e mettono in guardia il proprio elettorato di riferimento per la maggior parte democristiano di non cadere nella trappola e soprattutto di aprire gli occhi nei confronti di chi con l'inganno cercava di nascondere il proprio passato per creare confusione nel campo cattolico e fra gli elettori della DC una polemica una polemica forte violenta mai più espressa con toni così alti al limite del vilipendio come non accadde neppure nelle temperie del 48 quando le carte e questa volta del PC reggiano testimoniano che in quell'anno gli ostacoli più difficili alla sua candidatura al Parlamento furono posti proprio dal suo partito a questo punto e con un salto temporale di quasi vent'anni mi sembra interessante ripercorrere qui con voi le tracce di un altro periodo sul quale la ricerca delle fonti biografiche di Nilde si sono intrecciate con la particolare beneficenza del mondo femminile e cioè gli anni sessanta anni in cui la stessa sua progressione ha risentito del salto epocale e per tanti aspetti storico avvenuti in quel decennio in Italia e nel mondo di conseguenza la mia ricerca delle fonti si allarga e comprende altri e diversi strumenti di informazione e di espressione e di espressione culturali il cinema la letteratura la musica il costume codici e linguaggi in parte inediti che influenzano e indirizzano il modello di vita e il modo di esprimersi soprattutto delle giovani generazioni nella stessa vita di Nilde queste modernità aprono nuovi scenari sia sul piano personale che su quello professionale come mi pare dimostre l'incontro con una giornalista battagliere sprigolosa come a Oriana Fallaci che nel dicembre del sessantadue intervistava Nilde Yotti per la rivista L'Europeo Fallaci la chiama l'abadessa un appellativo certo non amichevole eppure io penso in quell'intervista c'era già un riconoscimento o comunque il sintomo di un mondo che stava cambiando e dimostrava che anche per l'opinione pubblica italiana il caso della concubina Yotti non era più uno scandalo un pregiudizio che paradossalmente stentava ancora a passare nel PC o almeno nel suo gruppo dirigente come constatai in una delle mie tante frequentazioni del Gramsci di Roma quando nel consultare le carte del PC mi resi conto che ancora nell'aprile del 61 i dirigenti comunisti non le avevano perdonato non tanto la relazione Moruxorio con il loro segretario quanto le sue scelte di vita e cioè essere una donna libera felice nel privato e contemporaneamente autonoma padrona di sé e del proprio lavoro per questo basta leggersi il velbale della direzione del partito con all'ordine del giorno proprio la decisione di affidare alla Yotti la segreteria della commissione femminile naturalmente parlando delle fonti non posso dimenticare il privilegio di aver letto e potuto dare alle stampe una parte del carteggio inedito che Yotti e Togliatti si sono scambiati nelle prime fasi della loro relazione e di questo devo ringraziare di cuore Marisa Malagoli Togliatti per la fiducia e la disponibilità che mi ha accordato è un documento importante indubbiamente prezioso soprattutto sulla piano dell'antropologia dei sentimenti la lettura di quelle lettere è stata per me conferma e stupore al tempo stesso perché mi sono trovata di fronte a una storia d'amore certo insolita contrastata e irtea di difficoltà fra una donna giovane e un uomo di un'altra generazione sposato con un figlio capo del suo partito e leader indiscusso del comunismo internazionale quindi una relazione difficile e complicata ma pur sempre simile e comune nell'espressione dei sentimenti scusate quasi nelle stesse modalità lessicali a quella di tanti altri e altre soprattutto se cittadini e cittadine di un paese arretrato come l'Italia di quegli anni certo quelle difficoltà l'hanno fatta soffrire ma molti aspetti diventano più comprensibili se collochiamo che quella storia d'amore nella loro contemporaneità e nel mondo di quell'epoca c'era la guerra fredda e dominava la cultura del sospetto e del nemico in casa e accanto a questo va anche ma accanto a questo va anche riconosciuto che l'esperienza politica di Nilde ha potuto formarsi e svilupparsi in un contesto per tanti aspetti di elite e che dietro la signora di Mottecitorio c'era stata una scuola politica raffinatissima un insegnamento e un'esperienza che lei stessa rivendicava anche per questo certi sensi di colpa espressi negli ultimi tempi pur legittimi sul piano amicale e affettivo mi sembrano tutto sommato inappropriati certo il partito e la sua città Reggio Emilia l'hanno ostacolata e fatta soffrire e ci voleva coraggio e spalle larghe per contrastarli per non perdere l'aspiranza e la fiducia nei propri talenti e nelle proprie capacità eppure la stessa Nilde certo non nascondendo la fatica e il dolore di quella sua resistenza non mancava di riconoscere in quella scuola di politica e in quegli uomini pur nella loro ruvida asprezza una delle componenti fondamentali della sua esperienza di donna realizzata nella politica e nell'istituzione grazie grazie